Si allena questa mattina l'US Agropoli in vista di Torrecuso, vero e proprio crocevia della stagione. Un risultato positivo renderebbe possibile almeno la seconda piazza, dato il calendario in discesa dei Delfini, che hanno con domenica prossima incontrato tutte le big del campionato, mentre Torrecuso e Acragas devono ancora scontrarsi fra loro. Le tecole dell'infortunio di Tarallo costringe Mister Rigoli a ridisegnare la squadra senza però snaturare, come ci dice lui stesso, il sistema di gioco. Noi adottiamo il 4-3-3 e, come ho sempre detto, è un modulo che la squadra ha assimilato e non vedo perché dovrei cambiare queste le parole di Rigoli. Ho gli uomini adatti, anche se l'infortunio del capitano può apportare variazioni sul tema, sempre però attinenti a quel sistema di gioco. Ho ancora due giorni per verificare il lavoro e poi deciderò. Ho diversi acciaccati e quindi sfrutterò fino all'ultimo l'allenamento. Domenica è una gara importante, ma ne mancano ancora dieci dopo Torrecuso. Certo, l'Acragas ha un vantaggio consistente e può perderlo solo lei. Noi pensiamo a difendere la terza piazza, quello che verrà dopo sarà guadagnato. Veniamo da una lunga serie positiva, pur con qualche pareggio di troppo, ma il gruppo lavora bene e mi dà ampie garanzie. Non si vincono partite come quella di domenica se non ci si crede fino all'ultimo. Intanto ieri il bollettino medico del dottor Trofa evidenzia il problema di russo, che sarà in forte dubbio fino all'ultimo momento.